C'è dimonia di prevenzione per la gara In una gara, certo si è libero eseguato anche i maschi Terzo classificatore per il tempo di 1.17 per la società FI Plus, Alessandro Vincenzi Vai, Igi! Vai! Vai! Secondo classificatore per il tempo di 1.17 per la società FI Plus, Alessandro Vincenzi Vai, Igi! Vai! Vai! Vai, Igi! Vai, Igi!